E rimango fermo ad aspettare, cercando di ascoltare il passare delle ore. Questa camera sta diventando quasi una seconda pelle, uno schermo fra me e il mondo esterno. Cammino a piedi nudi sui laghi di appunti e bigliettini, su storie lasciate a metà, su discorsi non finiti, su inizi in cerca di conclusioni. Non guardo nulla e non mi faccio domande. Non mi lascio scivolare le cose addosso, ma neppure non cerco di afferrarle. Un uomo silenzioso cammina per la stanza, sorridendo ironicamente delle mie ore impacchettate.